La maturità degli imperesi è andata a controcorrente, ha creato un caso che è stato ripreso da tutti i media nazionali in maniera molto visibile, e cioè un gruppo di persone che ha scelto come guida, non una cosa nuova, ma un usato, come Claudio Scaiola e che ha pensato potesse essere un usato sicuro, utile per insegnare ai giovani a crescere, a portare avanti la cosa pubblica imperia, per poter riuscire a rialzare l'imperia fuori da qualsiasi attaccamento di interesse, fuori da qualsiasi dubbio.